Ciao bambini! Puntata numero 43! Guardate che bello il disegno che mi ha regalato Tommy! Ha fatto un arcobaleno fantastico! Grazie Tommy! Bambini, oggi facciamo un lavoretto creativo davvero simpatico! Ma prima, sigla! Do ta tira tira tira, do ta tira tira, do! Do ta tira tira tira, do ta tira tira, do! Eccoci qui bambini! Come vi dicevo, oggi faremo un laboratorio creativo davvero simpatico! E lo faremo insieme a maestra Marta! Vai maestra Marta! Ciao bambini, come state? Spero tutto bene! Oggi vi propongo un lavoretto suggerito dalla nostra amica Alice! Il materiale che ci serve per questo laboratorio meraviglioso Qualche pennarello colorato, forbici di punta arrotondata Una colla stick e delle buste Più buste abbiamo più marionette Di vario genere possiamo costruire Iniziamo! Prendiamo la nostra busta Se nella vostra busta c'è questo pezzettino Lo tagliamo Sempre con le nostre forbici di punta arrotondata Non buttiamolo via perché ci servirà in seguito Apriamo la nostra busta E cerchiamo di fare una piega Per creare una specie di bocca Questa è la nostra bocca Ora la mettiamo da parte Prendiamo il nostro pezzettino E su questo pezzettino Ci facciamo Le nostre orecchie Perché vogliamo creare Un bellissimo topolino Tagliamo via la parte che non ci serve Potrebbe servirci per altri lavoretti E ritagliamo le nostre orecchie Ecco qui le nostre orecchie Ci mettiamo un pochino di colla Sia su questa orecchia Sia sull'altra Prendiamo la nostra mascherina E attacchiamo le nostre orecchie Dopodiché Con il rosa Col pennarello rosa Col pennarello rosa Creiamo il nasino Colorando questa parte Dopo aver creato il nasino Prendendo il colore nero Ci creiamo dei simpatici baffetti E due occhi Simpatico vero? Sempre utilizzando il nostro pezzo Della busta avanzato Ne prendiamo un pezzettino Dobbiamo creare i nostri denti Del topolino E facciamo delle righette Prendiamo sempre la nostra colla Cerchiamo di metterne un pochino In modo che si attacchino Ecco qui i nostri simpatici topolini Adesso Però io nel frattempo Ho costruito anche degli altri animali Più buste avete Più animali divertenti Potete costruire anche voi Più buste avete Più animali potete creare Ecco qui il nostro simpatico squaletto Vi piace bello vero? Oltre allo squaletto Abbiamo fatto anche un simpatico E divertente coniglio Ciao Alice Grazie a tutti E continuate a seguirmi Grazie per i suggerimenti Ciao ciao Grazie maestra Marta Troppo carini Gli animaletti Che hai creato con le buste Sempre bellissime le tue idee Bambini Vi ricordo che potete iscrivervi Al canale youtube Di maestra Marta E adesso bambini Vediamo i vostri lavoretti di oggi E iniziamo con Andrea Che mi ha mandato il portafoto Tutto marroncino Con le stelline rosse Bravo Andrea grazie Matilde invece Ha fatto due bracciali Colorati con i cuori Brava Matilde Marco ha fatto le nacchere Tutte verdi E con i denti da concodrillo Bravo Marco ciao Aurora Maria Mi ha mandato due lavoretti Aurora Maria Ha usato il sale grosso Che bei colori E poi Ha fatto Un bel fiore rosa Sul prato Brava Aurora Maria Queste Erano le foto Dei vostri lavoretti Bambini Grazie alle vostre mamme Per avermele mandate E grazie ancora Maestra Marta Per il carinissimo Laboratorio creativo E ti aspettiamo presto Bambini Questa puntata numero 43 Finisce qua Io Uovino E Molly Vi salutiamo E vi aspettiamo domani Ciao bambini Mamme Vi ricordo sempre Di mandarmi le foto Su messenger E su whatsapp E di seguirmi su instagram E di iscrivervi Al mio canale youtube Se questa puntata Ti è piaciuta Tagga due amiche Qui sotto Nei commenti Tutti i giorni Ci troviamo Per vedere La puntata Il pomeriggio Si colora Sempre dopo I compiti Tanti super lavoretti E poi quanti I bei balletti Siamo sempre Tanti amici Qui su Telemariana Tanti amici